Zerolandia Lei nella parte di lei, lei nella parte di lui e la storia continua, perché non ha un finale, una morale sì, il sesso che vi pare. Già. Su questo schermo lui apparirà puntuale, perché è fotogenico e è un bell'animale. Potrete amarlo, oppure detestarlo, a piacere, ma a quel suo ruolo lui non può più rinunciare. Vedi di non confonderlo coi teneri gattoni. Occhio agli artigli, diffida delle imitazioni. Mamma! Mamma! Non vedi che sto lavorando? Mai un attimo di pace a Hollywood. Grazie a tutti.